Perché Bitcoin non riesce a superare la barriera dei 10.000 dollari? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo un po' di Bitcoin e di quello che è successo ieri. I mercati finanziari ieri in grande panico, ma ragazzi venivano da una grandissima fase di rialzo. Oggi stanno recuperando, vedremo la prossima settimana perché poi oggi è venerdì e chiudono i mercati old. Vedremo la prossima settimana quello che accadrà e se questo ribasso che è avvenuto ieri può essere consistente anche nelle prossime settimane. Lo analizzeremo nella prossima settimana. Oggi invece parliamo di Bitcoin perché di nuovo ad agio sulla barriera 10.500 dollari non riesce a superare i 10.000 dollari e ritorna indietro. Fa questo atteggiamento da tantissimo tempo. Allora chiediamoci perché ragazzi io da questa giornata ho detto va bene, faccio questo video per un po' abbraccio, per dare a tutti questa informazione e queste idee che io ho in testa ragazzi. Queste idee che io ho in testa e farvi vedere anche un po' una serie di punti di vista di bicchieri mezzi pieni, bicchieri mezzi vuoti. Quindi cercare un po' di capire e di ragionare sul discorso. Prima di andare al grafico però dietro di me ragazzi come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un pollice per questi video. E poi volevo anche chiedervi in questo caso una serie di commenti anche vostri, cioè cosa ne pensate voi del fatto che non riesca ad andare sopra i 10.000? Io lo so che molti di voi stanno dicendo sì ma poi li rompe poi andiamo su, però ragazzi parliamoci chiaro, sono due anni che Bitcoin non si muove, è fermo immobile. Quindi chi ha investito in questa criptovaluta da due anni non guadagna niente, chi ha investito male sta perdendo, chi ha investito bene cioè sulle parti basse guadagna qualcosina. Ma oddio sulle parti basse anche il doppio ragazzi però in linea di massima in media siamo sugli stessi prezzi da due anni perché non riusciamo ad andare su? Che cosa ne pensate voi? Quali sono le vostre idee? Quali sono le cose che vi frullano in testa? Scrivetemelo nei commenti. Poi in descrizione ragazzi vi lascio invece un link a un webinar che terrò oggi pomeriggio, oggi alle ore 18, oggi intendo il 12 di giugno. Poi la registrazione sarà disponibile sul mio canale Telegram, l'iscrizione al canale Telegram è sempre in descrizione, gratuita per tutti. Quindi chi vuole può anche rivedere poi la registrazione ma oggi siamo live perché vi parlo di una piattaforma che sto usando da due settimane e che tra pro e contro vi voglio far vedere come l'ho utilizzata per guadagnare ben 25 punti percentuali ragazzi nella scorsa settimana sui mercati old quindi su Nasdaq ed S&P 500 ho fatto delle operazioni in valuta bitcoin. Una figata ragazzi questa cosa perché possiamo usare la valuta bitcoin per investire sui mercati old. Molto bello, mi è piaciuto. Poi ci sono una serie di considerazioni importantissime da fare quindi ragazzi venite nel webinar per sapere un po' come si fanno queste cose. Ore 18, vi lascio il link in descrizione per il webinar. Andiamo invece al nostro video di oggi e cerchiamo di capire perché bitcoin non riesce a superare questa benedetta, maledetta, tra virgolette resistenza a 10.000 dollari. ragazzi allora siamo andati sopra questa area qui soltanto a giugno quindi un anno fa a giugno del 2019 poi se andiamo ancora dietro quindi a ritroso scopriamo che la barriera dei 10.000 dollari è stata ovviamente infranta durante la bolla speculativa quindi la bolla di bitcoin durante il 2017 è stato sbaragliato questo livello a rialzo ma era una bolla ragazzi. in sostanza guardate qui però, questo volevo farvi capire quanto è importante anche questo livello guardate qui ragazzi, da questo punto che è vicino gennaio del 2018 in sostanza bitcoin non è più stato al di sopra dei 10.500 per un tot di tempo valido dal dire ok siamo sopra questo livello quindi sono due anni ragazzi e qualcosa tra l'altro due anni e sei mesi circa e cinque mesi che bitcoin non riesce a stare sopra questo livello vedete sta costantemente qui l'ha rotto un po' ha cincischiato poi boom è sceso pesantemente di nuovo stessa identica cosa qui l'ha rotto qui vedete ha stato un po' di più a giugno dello scorso anno un po' vedete ha cincischiato poi boom di nuovo e adesso siamo punto e a capo anche in questo caso. allora ragazzi intanto esistono delle resistenze che volevo definirvi resistenze di natura emotiva sui mercati finanziari queste resistenze emotive sono quelle con le cifre tonde però 10.000 dollari ragazzi è una resistenza emotiva che vale per 2 perché in sostanza è come dire è uno strumento finanziario che vale diciamo sotto le 5 cifre o sopra le 5 cifre quindi emotivamente 10.000 9.000 non è la stessa cosa c'è una differenza emotiva per cui se ragioniamo da un punto di vista emotivo questo limite in effetti c'è il prossimo poi sarebbe 20.000 ma non ha la stessa valenza neanche dei numeri tondi ragazzi perché quello è un numero tondo sulla base di 10 quindi insomma emotivamente diciamo fa un po' queste cose poi a me sapete non mi piacciono questi discorsi emotivi perché non li reputo diciamo avere un grande senso sui mercati finanziari e su quelle cose che poi interessano a noi da un punto di vista tecnico ma una cosa importante c'è da dire questa fase questa fase vedete di resistenza che boom 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 blocca costantemente è importante da capire perché ha due risvolti quindi ok ci saranno una serie di motivi di natura emotiva e psicologica poi ci saranno anche una serie di motivi di natura fondamentale perché bitcoin in questo periodo ha subito un crash da una bolla speculativa poi si era ripreso durante una fase di up che stava ritornando è il covid la pandemia ed è andato down insomma ragazzi tutta questa fase a livello di quotazione per quanto riguarda i mercati delle criptovalute bitcoin in particolar modo sono state fortemente influenzate da oscillazioni di natura emotiva cioè lo scoppio di una bolla e poi il covid della pandemia durante queste fasi di ripresa e nello stesso tempo ragazzi abbiamo avuto una piccola cosa che si chiama halving di bitcoin quindi ha dovuto anche riassorbire l'halving perciò ragazzi ci sono una serie di motivi del perché bitcoin non riesce in nessun modo a superare i 10.500 ho letto alcune news che oggi parlavano di ritrovata correlazione tra standard impulse 500 e bitcoin ragazzi ma per favore di cosa stiamo parlando cioè standard impulse ha perso il doppio ieri di bitcoin non sono correlati l'ho già spiegato mille volte guardate i miei video che parlano della correlazione se anche fosse una correlazione momentanea che non serve a niente a nessun trader non si può tradare per cui non usiamo queste informazioni quindi non è andato giù dai 10.000 perché è correlato a S&P 500 quindi escludiamo questa cosa una volta per tutte assolutamente ragioniamo in questo modo ragazzi con i dati alla mano abbiamo visto anche i grafici sulla correlazione mentre il bagaglio emotivo che si porta dietro quello invece c'è ragazzi perché c'è la paura di superare questo livello ok io lo definirei così è un è paura ragazzi perché perché nel momento in cui bitcoin va sopra i 10.500 poi cosa avviene cioè parliamoci chiaro perché poi il problema è cosa avviene nel momento in cui io vado sopra questo livello allora poi va su e ma poi c'è la paura di dire e ma magari poi torna dietro ci fa il fake ci sono manipolazioni e tutto il resto e insomma ragazzi tutte queste manfrine tutti questi pensieri bloccano una strumento finanziario perché non sa cosa fare c'è indecisione sul mercato tutti gli stakeholder sono indecisi e quindi questa indecisione si vede guardiamo il grafico settimanale ragazzi per capire una cosa quanto è rilevante questo livello ragazzi guardatelo quanto è rilevante questo livello qui ok adesso vi faccio vedere quello che vedete in rosso della quotazione questo è il livello che stiamo prendendo in considerazione guardate quanto è rilevante perché al di là della bolla se noi questa la cancelliamo era una bolla vedete un po' cosa significa da qui in poi ragazzi da qui in poi vedete cosa significa questo livello per bitcoin è tutta la sua vita degli ultimi due anni quindi una rottura di questo livello poi andrebbe a razionalizzata in come ha fatto qui e quindi ci sarebbe la paura in ogni caso che magari è un fake perciò moltissimi arrivati a 10.000 non comprano più ragazzi stanno fermi stiamo tutti fermi su questa soglia nessuno la compra e stando tutti tutti fermi il mercato appena una notizia negativa boom torna indietro questo è normale perché è diventata una soglia di natura emotiva psicologica ma nel momento in cui dobbiamo tirar su i remi in barca dobbiamo capire se siamo forti o meno noi mercato cripto per poter andare al di sopra di questi di queste resistenze come facciamo cosa dobbiamo guardare cos'è che ci dice se la molla si sta caricando la molla si sta caricando ragazzi ci sono due indicazioni e le guardiamo velocemente una è il numero degli swing ragazzi che vanno al ribasso ma che poi boom ritornano indietro anche quello del covid ragazzi è ritornato indietro e tutte le volte che il bitcoin prova a superare vedete questa soglia va giù ma poi ci riprova va giù poi ci riprova va giù pesante dopo il covid ci riprova allora questa cosa qui ragazzi significa forza di un mercato poi chiaramente il mercato sapete io ho le mie vie cicliche io seguo sempre il trend questo ragionamento non significa domani compriamo tutti i bitcoin non do consigli finanziari lo sapete non è questo il l'idea di questo ragionamento è un modo per farvi riflettere su cosa dobbiamo guardare per capire se un mercato è forte o meno anche quando viene respinto quando becca in sostanza ragazzi perché ieri ha beccato per l'ennesima volta adesso lo rivediamo qui ha ribeccato vedete nuovamente ci ha provato qui boom di nuovo giù a non ce la fa da questo punto boom di nuovo giù ok al di là del fatto che come spiegavo probabilmente qui siamo nei in una chiusura ciclica e lo vedremo lunedì perché probabilmente da qui potremmo rifare un tentativo nuovo di andare su questo livello se non lo fa poi dovremmo aggiornare delle variabili però ragazzi avere la forza di ritornare sempre sul livello di 10 e 5 è importante da considerare perché gli swing che vengono rifoncillati quindi in sostanza sono questi orsi ragazzi che vengono che vanno a sbattere i tori ma i tori poi riprendono la forza e dici io ci sono ancora e primo poi ragazzi queste come la goccia cinese sulla pietra la sta un po' distruggendo altro cosa che volevo farvi vedere ed era importantissimo in questo momento era difficolti io sono rimasto un po' basito un po' scioccato quando ho visto che la difficolti addirittura fra tre giorni sale è incredibile ragazzi dopo l'albing è scessa solo due volte non me lo aspettavo sono sincero io mi aspettavo un riaggiustamento della difficolti che proseguisse anche nei prossimi nelle prossime settimane guardate cosa ha fatto meno 6 meno 9 e poi ci spara un più 10 praticamente l'abbiamo vista la previsione è di più 10 eccola vediamo qua di nuovo di più 10 fra tre giorni ragazzi cioè in pratica questo è il nulla quindi continua a salire la difficolti significa che gli di hash rate di bitcoin si sono riposizionati e infatti è così ragazzi vedete l'ash rate adesso è ritornato a 115 hash di potenza per la blockchain che è in sostanza vicino al suo massimo perché il massimo mi pare è 118 che abbiamo riportato qui vedete è 118 ora siamo a 115 in sostanza è quasi il massimo dell'ash rate questa è una notizia positiva da un punto di vista fondamentale perché significa che non gliene frega nulla a chi sta dietro alle mining pool e continuano ad insistere su questa criptomoneta e continuano ad insistere su questo mercato una notizia di grande forza che andremo a considerare che va considerata ragazzi da una parte abbiamo questi queste ricariche questa molla che si sta caricando come vi ho detto prima guardando il grafico e dall'altra abbiamo anche dei dati fondamentali come la difficulty ora questo significa che andremo a distruggere domani questa resistenza no non ho detto questo questo significa che il mercato ancora tiene botta ce la fa ancora sta lì ancora dice io ci sono io ci provo questi 10 e 5 prima o poi li butto giù questo è quello che sta provando a fare poi è chiaro ragazzi intanto deve farlo e poi ci sono tante cose da vedere magari riuscirà a farlo a fine anno magari riuscirà a farlo il prossimo anno questo noi non lo sappiamo bisogna sempre seguire il trend quando fate operazioni di investimento di trading dovete sempre seguire il trend perché i prezzi non vi mentono ragazzi mai ovviamente se seguite il trend sul grafico a un'ora siete pieni di manipolazioni pieni di errori ma questo io l'ho insegnato nei miei corsi lo dico da due anni sul canale attenzione se non siete esperti di trading non scendete mai sotto il time frame a 1 di cioè un giorno perché il resto è troppo complesso per chi non è molto esperto diciamo in questa materia va bene allora abbiamo visto perché bitcoin non riesce a superare questa soglia natura emotiva e abbiamo visto anche che in effetti questa molla sembra proprio continuare a caricarsi è un toro bitcoin sta sempre lì e si sbatte con queste corne vediamo se la distrugge questa questo vuolo va bene ragazzi noi ci vediamo alle 18 per chi di il link in descrizione io vi saluto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti ciao